L'Italia quest'anno è una delle mete preferite dai turisti americani. Andranno anche in Spagna, Portogallo e Grecia. In Europa del Sud si registrerà un incremento degli arrivi dagli USA variabile dal 14 al 30% rispetto allo scorso anno. Ma il nostro paese per bellezza, accoglienza, cultura è quello dove gli stranieri provenienti dagli Stati Uniti preferiscono soggiornare, spendere e trascorrere le loro vacanze. Federturismo calcola che ci saranno un milione e mezzo di turisti in più rispetto al 2023, con una totale di 3 milioni di pernotamenti. Uno su dieci arriverà dagli USA. Lo scorso anno hanno speso in media 184 euro a notte e sono rimasti fino a dieci giorni consecutivi. I dati sono della Banca d'Italia. Tempo necessario per godere delle bellezze dei paesaggi e delle città d'arte ma anche per apprezzare il buon cibo e la moda, uno dei settori che attrae di più gli stranieri in Italia. Nel 2023 la crescita di visitatori dagli States ha sfiorato il 40% rispetto al 2022. Capri e Forte dei Marmi le mete preferite. Seguono Portofino, Portocervo e Taormina. Questi i luoghi più gettonati. Il nostro paese cattura gran parte degli stranieri che possono e amano spendere. I turisti internazionali quest'anno porteranno un giro di affari in Europa pari a 800 miliardi di euro, il 37% in più rispetto al dato prima della pandemia.